Al momento non pensavo di fare nulla, al momento non c'è necessità di un intervento. Per la prima volta forse, consapevolmente, ho dovuto essere omissivo nei confronti dei cittadini di voi che mi avete fatto le domande e dei cittadini che ci ascoltavano. L'ho fatto per una ragione ben precisa, per non creare allarme, i mercati erano aperti e per ragione del segreto d'ufficio. Prima del commissariamento della Popolare di Bari deciso ieri sera a borse chiuse, era stato l'amministratore delegato Vincenzo De Bustis qualche giorno fa con un'intervista sciocca al Corriere della Sera a certificare la crisi irreversibile dei conti della banca già fuori dai parametri nell'ultima semestrale. Nell'intervista De Bustis, tornato in Pop Bari ad inizio di quest'anno, dopo essere stato nel board dal 2011 al 2015, aveva snocciolato dati drammatici sui crediti deteriorati, sparando alzo zero su, a suo dire, la malagestio della famiglia Iacobini e indicando in un robusto aumento di capitale, tra gli 800 milioni e il miliardo, l'unica ancora di salvezza dell'Istituto di Credito Pugliese. La vicenda ha ripercussioni forti anche in Abruzzo, sia dal punto di vista dell'occupazione che da quello dell'operatività bancaria. Pop Bari, infatti, era stata scelta da Banca d'Italia come player per l'acquisizione di Tercas e Caripe nel tentativo di dare vita ad un polo del credito del medio adriatico a servizio delle piccole e medie aziende del Sud Italia. Ma la realtà che sta venendo fuori in queste ore e che ha portato al commissariamento della banca è di tutt'altro tenore ed anche su questo sta indagando la magistratura, oltre alla Consob, l'organismo di controllo della Borsa. Se i correntisti non rischiano nulla al momento perché l'operatività della banca non è intaccata dal commissariamento, l'anello debole della catena potrebbero essere azionisti e obbligazionisti, per i quali però potrebbe esserci un provvedimento di mitigazione delle perdite stile Banche Venete. Mentre si ispira, quanto accaduto alla Carigia, il salvataggio che in queste ore il governo sta mettendo in campo, non senza tensioni all'interno della maggioranza, per la contrarietà dei renziani di Italia Viva e per le perplessità sollevate dal Movimento 5 Stelle. Allo studio c'è una seminazionalizzazione con una ricapitalizzazione a condizioni di mercato per evitare l'intervento dell'Europa che potrebbe considerare l'operazione aiuto di Stato. A negoziare l'aumento di capitale della banca pugliese quindi saranno i commissari Enrico Aiello e Antonio Blandini, quest'ultimo con esperienze anche in Tercas. A loro, si legge nel comunicato della Popolare di Bari, è stato affidato il presidio della situazione aziendale e le negoziazioni sul salvataggio della banca. Oltre alle reazioni politiche a livello nazionale, immediate ci sono state anche le reazioni della politica regionale abruzzese, con il capogruppo in Consiglio regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, che invita il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ad impegnarsi ad acquisire immediatamente i dati di ricaduta sulla comunità terramane d'Abruzzese della imminente ristrutturazione aziendale della Popolare di Bari. L'istituto pugliese globalmente occupa 3.300 persone circa, in 368 sportelli in 13 regioni italiane e conta circa 70.000 soci.